Ciao, sono Marco Spissu, gioco nella Dinamo Sassari e nella Nazionale Italiana di Pallacanestro. iSport fa parte della mia carriera e con lei sono cresciuto e arrivato alla Nazionale. Condividiamo due strade parallele, fatte di sacrifici e rinunce che portano al successo. iSport è sarda come me, seria, determinata e non dovrei dirlo io, dall'alto potenziale. Ho deciso di promuovere iSport perché non ci accontentiamo mai e vogliamo sempre crescere e migliorarci. Sport iSport, un marchio di serie A.